volete tornare a giocare verde ma non sapete con quale leader farlo state cercando un archetipo aggressivo e chi allo stesso tempo eriga mura invalicabili difficili da superare per chi vi giocherà contro quale personaggio potrà rispondere a tali esigenze fornendo una lista performanti da piazzamento alto in classifica nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale direttamente dal lungometraggio red che ha visto i protagonisti della sciurma di cappello di paglia scontrarsi contro un demone sanguinario arriva uno starter che vede le sue radici affondare addirittura nel secondo set di one piece paraman war il deck di uta verde infatti ha messo a disposizione di ogni aspirante re dei pirati il reparto completo della tipologia film che in questo meta nello specifico sta vedendo un largo utilizzo piazzandosi spesso nella parte alta della classifica portandosi a casa anche eventi di caratura maggiore come il regional di milano tenutosi l'undici e dodici dello scorso maggio la cantante infatti grazie al suo effetto lo vedremo fra poco darà la possibilità a chi ne vestirà i panni di avere un numero di carte in mano sempre maggiore e quindi risorse utili da impiegare sia in campo che all'evenienza in fase di counter nel video di oggi perciò andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck scoprendo le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni della figlia del rosso signori dalle statistiche di youtube ho notato che in media il 77 per cento di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo perciò datemi una mano se ancora non siete iscritti basta un clic per voi è un semplice gesto ma per me è di grande aiuto grazie per il supporto torniamo al video ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di uta verde andiamo a dargli un'occhiata partiamo dal leader che con i suoi 5.000 punti di forza e 5 vite a supporto vi permetterà una sola volta per turno quando attaccherete assegnandogli un singolo don di guardare la prima carta dalla cima del deck andandola poi ad aggiungere alla mano se possiederà il tratto film in caso contrario quest'ultima dovrà essere posta in fondo al mazzo la decklist in questione quindi girerà totalmente attorno alla tipologia introdotta in op02 e vedrà il quartetto di chopper uta blocker mihawk usop nami brooke zoro luffy e kid costo 8 con il trio di blueno per la parte character assieme alle quattro copie di new genesis ed i'm invincible ed il trio di backlight che chiuderanno sia il settore event che questa profile le carte cardine del mazzo saranno di sicuro le nami film e le new genesis che con i loro effetti vi aiuteranno a recuperare pezzi fondamentali utili alle strategie di gioco ed i luffy che assieme ai brooke e le uta andranno a fornire una presenza board importante soprattutto in vista del supporto da fornire ai kid costo 8 che se verranno protetti a dovere daranno del gran filo da torcere alle manovre offensive dell'avversario mentre il resto andrà a fornire appoggio ad ogni singola giocata che farete sia in fase difensiva che offensiva a seconda della situazione che vi ritroverete a dover affrontare altro fattore da tenere bene a mente sarà la sinergia zoo del deck ed alcuni personaggi che essi utilizzati al momento più opportuno andranno a scombinare i piani rivali come ad esempio i già menzionati luffy che gioca brooke che gioca a sua volta uta o usop o blueno i backlight che andranno ad esaurire o distruggere dei pezzi a costo 5 nemici e i dracul che potranno far scendere in gioco gli zoro ripristinati grazie all'effetto di uta blocker scartando un event dalla mano ultimo ma non per importanza vedrà l'innesco di i'm invincible nel late game che vi consentirà di sferrare un duplice attacco con il leader che se potenziato a dovere attraverso l'impiego dei don disponibili sul vostro terreno vi darà la possibilità di portarvi a casa l'incontro soprattutto contro leader ostici quali enel moria ed ogni altro deck presente nella parte alta della tier quindi dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo ponendoci come sempre la solita prima domanda come funziona questo deck essendo un archetipo zoo quello che dovrete fare sarà recuperare attraverso gli effetti di ricerca quello del leader incluso i luffy e i brook che in questo mazzo rappresenteranno il motore diesel che accelererà le prestazioni in campo in più grazie ai numerosi personaggi che potranno essere utilizzati grazie all'abilità dello scheletro potrete risultare più aggressivi se disporrete di un usop o difensivi grazie alle uta e i blueno questi ultimi utilizzati in vista della presenza in campo di un kid che andrà protetto ad ogni costo per la fase offensiva avrete a disposizione quindi gli stessi brook usop nami e kid che oltre ad attaccare per 9.000 segnando yundon tamponerà gli assalti rivali risultando l'unico obiettivo valido da attaccare gli zoro ed infine la duplice scelta rappresentata dai luffy solo se sarà però presente anche uta in gioco ed il leader stesso che con l'evento i'm invincible può trasferrare due assalti in un singolo turno per quella difensiva saranno presenti i blueno le appena menzionate uta i luffy blocker ed i kid quindi di muri da frapporre fra voi e l'avversario ne avrete più che a sufficienza trattando invece l'argomento mano iniziale le carte must have da avere saranno di certo una nami una new genesis un kid un brook ed una uta se sarà così potrete procedere tranquilli in caso contrario mulligan ed incrociate le dita parlando di match up questo mazzo è la vera rivelazione del meta attuale che vede e b01 protagonista con l'arrivo di supporti come lo stesso blueno e i sanji counter più 2000 che ho visto in molte liste e i trafalgar che però qui ho escluso per aumentare il grado difensivo dell'intera profile ve la giocherete alla pari praticamente con tutti forse moria vi darà del filo da torcere soprattutto con le perona e i blu che con pudding vi azzerreranno il vantaggio carte ma con qualsiasi altro colore ve la giocherete senza temere i confronti per la win condition quella che ho testato più e più volte è stata kid che picchia per 9000 e leader che va di doppio attacco ma ovviamente non sono mancate partite che hanno visto chiudere l'incontro di brook ed usopp potenziati di due don luffy o zoro una cosa comunque resterà certa di potenza di fuoco a disposizione ne avrete a iosa utilizzatela con cura e vedrete che sbaraglierete ogni forza che vi si ritroverà contro invece le carte obbligatorie che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento saranno tutto il reparto film i kid e i mioc praticamente tutto il deck quindi ma nessuna paura potrete reperire il blocco principale con 11esimo starter recuperando il resto attraverso acquisti singoli infine per la fase counter avrete a disposizione 19 più 1000 ed 8 più 2000 i quali dovranno essere utilizzati in modo oculato soprattutto per far restare quanto più a lungo possibile il kid sul terreno prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck uta per quel che l'ho giocata può partire sia per prima che per seconda avendo drop sia in fase pari che dispari ma prima arriverete a 7 don meglio sarà soprattutto in vista di un turno dove con 9 don potrete giocare kid e mantenerlo in vita con i blocker scesi nel turno precedente questo è un archetipo zoo piuttosto controverso perché a differenza del puro che ha parecchia cose ed attacca d'oltranza qui si avrà la possibilità di difendersi con diversi character che formeranno un vero e proprio bastione dove alle sue spalle saranno presenti guerrieri pronti a combattere se entrerete nell'ottica di avere tra le mani una zigurat ben piantata a terra affrontare anche il più pericoloso dei leader presenti in meta non vi farà alcuna paura concludendo uta è la prova reale che anche un vecchio gruppo di character che in op03 ha fatto il suo grazie a doffi verde viola può tornare in auge attraverso un leader pensato appositamente per rendere un tratto pericoloso e tremendamente divertente da giocare perciò non vi resta altro da fare che prendere il microfono in mano ed alzare a palla al volume avvertendo tutti i rivali presenti in sala che lo show sta per iniziare e voi avete mai utilizzato le dinamiche della figlia di shanks in un torneo organizzato come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video